Lo Spezia si prepara alla trasferta di Parma dopo aver svolto le ultime sedute di allenamento all'interno della bolla, cui è costretto dopo che in settimana è stata verificata la positività di un calciatore e di alcuni tradipendenti e collaboratori. Il pensiero di Mister Italiano arriva quindi dal ritiro al quale è costretta la squadra e parte proprio dalla difficoltà di tenere alta la tensione vista la particolarità della situazione. Abbiamo cercato di prepararla come al solito, cercando di rimanere concentrati e preparandola come abbiamo cercato di fare tutte le altre. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni perché può capitare. Lo Spezia ha fatto 4 punti mentre il Parma ha un po' deluso. Che partita si aspetta Mister Italiano? Andiamo ad affrontare una squadra che negli ultimi anni ha ben figurato in Serie A, squadra con giocatori di valore che conoscono bene la categoria, quindi un'altra partita difficile per noi, ma siamo ancora alla quinta giornata quindi penso che tanti valori verranno fuori, tante squadre inizieranno a fare risultato, penso che da qui in avanti si possano vedere anche altre situazioni di classifica e quindi per noi è importante non mollare. Parma anch'esso con parecchie defezioni legate al coronavirus, questo può rappresentare un vantaggio? No, ma in questo momento tutte le squadre hanno vari problemi che possono essere anche infortuni di qualsiasi genere. Ci si aggiunge anche qualche defezione per il Covid, ne abbiamo anche noi perché Marchizza e Maggiore ancora non possono essere utilizzabili. Abbiamo avuto qualche problemino in settimana come dicevamo prima, ma tutto è rientrato, però ognuno ha i propri problemi. Il calendario mette lo Spezia di fronte a sfide importanti nel breve periodo. Abbiamo il Parma domani, abbiamo poi la gara di Coppa Italia di Cittadella, poi abbiamo la Juve, quindi tutte settimane difficili da preparare bene contro tutte squadre di assoluto valore. Allora non rimane che stare sempre concentrati e fare il lavoro al massimo, perché noi dobbiamo per forza di cose comportarci in questo modo qua.